Scusa, hai detto gassata? Gassata. Oddio, scusa, ma che oggi è tuo compleanno. Ma scusa, ma non mi ricordavo. No, no, scusa tanto, davvero, scusami. Scusa, scusa. Ti potresti spostare un po'? Non vedo. Ma scusa, eh. Non avevamo detto che andavamo domani mattina? Anche quest'anno ti sei dimenticato. Scusa. Eh, scusa, è un cazzo. Scusi. Eh, scusi, eh. Eh, scusi. Eh, lo zucchero di canna, dove lo trovo? Dopo i detersivi. Grazie, grazie. Eh, amico, scusa, avresti mica un euro. Ma devo comprarmi la droga. Guarda, scusa se te lo dico, ma... Ti sta di merda. Sì, scusate, scusate, un attimo d'attenzione. C'è una panda blu da spostare. Di chi è? Scusami, davvero, non volevo. Ma io non sapevo che fosse tua sorella. Una panda blu? Ma è mia? Eh, cosa c'è? Eh, passo carai. Scusa. Scusa, no, ho visto che stavo parlando. Eh, scusami tanto se esisto, eh. Scusa, scusa. Ma scusa, ma secondo te queste cose qui la gente non le sa? Eh, ragazzi, ciao, scusate se vi avviso con così poco anticipo, però io questa sera alla riunione non ci sarò, perché non me ne frega un cazzo. No, se mi scusi cinque minuti, se mi scusi, eh, arrivo subito. Sono subito da te. Eh, ragazzi, dovete scusarmi, ma l'Andrea è a letto. E non può venire. Scusi signora, via De Robertis, dove si trova? È vero, è vero, è vero, mi sono comportato male, scusami. Mi dispiace. Cosa vuoi che ti dica di più? Non posso mica tornare indietro nel tempo. Scusa. Sì, scusate, sì, scusate, siamo qui in diretta, ha appena segnato l'Ascoli, due a zero. Eh, scusa, adesso guarda, non serve a niente, perché intanto hai rovinato la serata tutti. Sì, la zia Lorenzina non vuole più venirci a trovare. Ti sembrava il caso di fare l'imitazione di Mussolini, proprio? Ma sì, dai, ho capito, scuse accettate. Adesso per favore vai a fare il c***o. Bene, la riunione è finita e se mi scusate adesso devo andare in bagno. Oddio, ti ho passato il piede, scusa, scusami. Oddio, mi hai passato il piede, scusami, non volevo metterlo sotto al tuo. Sì, volevo chiedervi scusa per questo video, ma non avevo idee migliori. Eh, vabbè, insomma, percorso dell'artista, è così.